Ciao, questo è un video in collaborazione con Keke Xili, un venditore di Amazon, il quale ha deciso di farmi testare delle cuffie, le cosiddette gaming handset. Il pacco è arrivato all'interno di questa scatola di cartone, nella quale c'era un po' di carta e un buono Amazon da 25€. Ora vediamo nel dettaglio le cuffie. Allora, le cuffie sono queste qui. Le potete scegliere nella colorazione blu o anche rossa. Il prezzo è di 36€ circa e le spese di spedizione sono gratuite. Le cuffie, ho già controllato, sono ricche di accessori. Queste le potete utilizzare per la vostra Xbox, per la Playstation 3, Playstation 4, ma anche per il PC. Sono dotate di un microfono che ruota a 120 gradi. Ora vi mostro per bene. Allora, all'interno le cuffie vi arrivano in questa bustina. con le bollicine. Poi c'è il fogliettino che vi spiega appunto l'utilizzo, i vari componenti accessori. Poi troviamo le cuffie. Ecco, allora si presentano così. Come potete vedere sono abbastanza massicce e questo è tutto in gomma e anche questa zona è in gomma. Questo è il filo con il relativo gancio e questo è il microfono che ruota a 120 gradi. Quindi praticamente fa questa rotazione. Ovviamente la cuffia si può anche alzare in questo modo. Sono davvero molto belle. Infatti, provate, sono così. Sono molto belle e davvero comodissime grazie a queste parti in gomma. Poi ancora, oltre a queste, all'interno c'era questa bustina, questa confezione, con questo elemento che devo ancora capire bene la sua funzione. Comunque questo si collega ai computer. E poi ho trovato anche altre bustine con dei cavetti. Quindi, che dire, io penso così a primo impatto che il prodotto sia validissimo. Penso che il prezzo sia davvero buono per avere tanti questi accessori. Tenete presente che in media una cuffia della Philips, più piccola, senza tutti questi cavi, vi viene sulle 25 euro. Invece una cuffia del genere, comunque, con tanti accessori e anche molto particolare, costa sulle 36 euro, penso che sia un bel prezzo. È una cuffia più maschile che femminile, però ragazzi, ragazze, io questa la uso perché mi piace. E poi voglio farvi presente anche questo stampo, ecco qui, questa immagine. Quindi, niente, io ringrazio il venditore Amazon, che è Siri, per questa bellissima opportunità. E noi ci vediamo in prossimi video. Un bacio!